Strade sporche, rifiuti non differenziati, degrado ed abbandono. I torresi, ai microfoni di TV City, attribuiscono le responsabilità della situazione attuale sia all'incività dei cittadini che alla gestione dell'amministrazione comunale. Secondo lei i torresi sono incivili? I torresi sono incivili, qualcuno, perché non bisogna fare tutto un erbo un fascio. Però anche l'amministrazione non è che ci tiene proprio la città pulita al massimo. Quindi lei di chi ritiene la responsabilità di tutto ciò? È 50 e 50. Noi cittadini in primis, ma maggior parte anche l'amministrazione. Che problematiche riscontrate? La non pulizia per le strade. I bambini da soli non possono passeggiare, perché tra escrementi di animali, foglie secche, roba varia, non possono camminare da soli. Con i passeggini altrettanto, perché tra bidoni della spazzatura che vengono messi sopra e sotto i macciapiedi, cioè è impossibile. Via Comizi soprattutto, guardate, è una strada impraticabile, non si può passeggiare. Dove c'è il Palazzo Baronale è impossibile camminare con il passeggino, ma anche con i bambini da soli, è impossibile. Uno si deve lamentare praticamente se non gli danno niente. Se non gli danno niente uno si lamenta, ma se ne danno un poco e la popolazione non se lo sa tenere, automaticamente di cosa ci lamentiamo? Alla fine chi contribuisce a mantenere pulita la città o nel vivere civile sono i cittadini. Quindi l'heritine è che la responsabilità sia la maggior parte dei cittadini? Soprattutto, perché io faccio una differenza fra adesso e il passato. Adesso siamo nell'epoca dei social, quindi in effetti tutto è pronto, cioè tutto è facile, tutto è facile ottenerlo subito, mentre prima si facevano dei sacrifici poteri. Bisogna avere la cultura e questo paese, da quando io lo conosco, non abbiamo fatto progresso. Secondo lei i torresi sono incivili? Sì, tutti incivili, perché prima prima noi buttiamo le carte a terra e manteniamo la città sporca. Però lo stesso che non vengono in spazzina a spazzare nel parco nostro, non viene proprio nessuno. Se non fossero questi qua di colore che buttiamo qualcosa dal balcone, se sono proprio le... Di chi è la responsabilità di tutta questa sporcizia? Dei torresi, dell'amministrazione che si sono dati, quindi corrisponde. Se i cittadini sono incivili, pure l'amministrazione è incivile. E fa poco per essere autonoma e per educare gli stessi suoi cittadini a comportamenti responsabili. Che problematiche riscontra? Le strade non sono pulite, che i rifiuti non vengono differenziati affatto, che non si sa bene che fine fanno, dove vanno, quanti introiti vanno al comune e come li spendono. Sappiamo tutti che i poveri sono in continuo aumento e per questo non sembra che l'amministrazione comunale faccia tanto.